Poco prima delle 17 di domenica i vigili del fuoco sono intervenuti per un'auto finita in un burrone incontra Cunchele a Conco Lusiana. Una donna e un uomo sono rimasti feriti. La coppia a bordo di un fuoristrada stava percorrendo la strada in discesa in forte appendenza quando come riferito l'auto non ha più frenato finendo fuoristrada in un diruffo. I primi soccorsi da parte di alcuni amici che seguivano la coppia su un alto auto. I vigili del fuoco arrivati da Asiago hanno collaborato i soccorsi sanitari del personale del suo M118. Entrambi i feriti sono stati stabilizzati e trasferiti in ospedale a Bassano del Grappa. Non sarebbero in pericolo di vita. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.